Le immagini di Ciro, il bambino di 11 anni, estratto vivo dalle macerie della sua casa dopo ore di ricerche dei pompieri, fecero il giro del mondo. Oggi Ciro ha 16 anni, la sua casa, così come le altre, rase al suolo dal sisma che sconvolse la vita di tre comuni dell'isola di Ischia, non è ancora stata ricostruita. Oggi il commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio Superiore di Magistratura, ha illustrati i dettagli del piano ricostruzione durante iniziative organizzate sull'isola per ricordare il terremoto di cinque anni fa e commemorare le vittime. La cerimonia, celebrata dal Vescovo di Ischia, Monsignor Gennaro Pascarella, alla Basilica di Santa Maria Maddalena, ha visto protagonisti rappresentanti della regione Campania e quelli dei tre comuni isolani colpiti. Tra i particolari del piano illustrato dal commissario è anche il testo ormai definitivo della nuova ordinanza con la quale saranno riconosciute alle imprese e ad altri operatori economici danneggiati dal sisma tutti gli indennizi e i risarcimenti fin qui ottenuti, comprese le scorte e i beni strumentali. L'ordinanza, che rappresenta un provvedimento organico su tutte le questioni relative alle imprese che hanno subito danni, sarà varata giovedì 25 agosto. Desidero esprimere gratitudine per l'intervento immediato che hanno assicurato alla Protezione Civile, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine, alla Croce Rossa, nonché l'intervento di coloro che si prestarono a dispiegare il loro impegno solidale nei confronti di chi in quel momento si trovava in condizioni di vulnerabilità. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del quinto anniversario del terremoto. È necessario oggi sviluppare un percorso rapido di ricostruzione, ha proseguito il Capo dello Stato, capace di rimuovere gli effetti nefasti del sisma, avvalendosi del comune impegno delle popolazioni colpite, dell'unione degli sforzi tra cittadini e della collaborazione tra istituzioni e società civile.